Ciao, sono Anna Buzzoni e sono consulente mestruale online a Berlino. Bentornata a Medullara, a queste pillole di saggezza sulla ciclicità e sul tuo ciclo. Oggi ti voglio parlare di stamina, ovulazione e body literacy. Che cos'è la body literacy intanto? È quella competenza che ci permette di leggere e scrivere il linguaggio del nostro ciclo mestruale e di trasformare i sintomi, belli e brutti, in cura, consapevolezza e cambiamento. Allora, stai male all'ovulazione per caso? Potrebbe essere l'istamina, te l'avevano mai detto? Allora, l'eccesso di stamina, il malessere da istamina è piuttosto semplice da riconoscere, se sai come. Cominciamo a stare male intorno ai giorni dell'ovulazione, poi stiamo un po' meglio, poi stiamo di nuovo peggio in fase premestruale, poi stiamo meglio, poi stiamo male di nuovo all'ovulazione del ciclo successivo, poi meglio, poi peggio e così abbiamo un pattern bifasico di malessere al mese con il primo picco attorno all'ovulazione. I sintomi sono svariati, prendono sia l'umore, con gli sbalzi d'umore, rabbia, ansia, irritabilità, sia tutti i sintomi che sono solitamente associati alle allergie, anche se non sei allergica a niente, tipo il naso chiuso, eruzioni cutanee, mal di testa, cos'altro? Sì, il naso che cola, gli occhi arrossati, cose di questo tipo, ma ce ne sono anche altri di sintomi, sono piuttosto lunghi e non ci interessano, perché non è tanto il sintomo quale sintomo hai, ma la distribuzione temporale dei tuoi sintomi. La body literacy è una figata pazzesca per questo, perché ti insegna a decifrare il significato dei sintomi a seconda della distribuzione temporale che hanno, ti dice se quel sintomo è per esempio collegato a un ormone particolare e questo ti dà molti più strumenti per affrontare la cosa. Perciò, al di là dei sintomi specifici, se tu stai male all'ovulazione, poi stai meglio, poi stai peggio in premestruale e così via di ciclo in ciclo è possibile che tu abbia un eccesso da istamina. L'eccesso da istamina può essere causato da diversi fattori e non sarò qui a delencarli tutti. Diciamo che in breve la dieta occidentale, industriale, non artigianale fatta in casa, non stagionale, la provoca. Mangiare anche gli avanzi, perciò per esempio quella tecnica strategia chiamata batch cooking, ovvero io cucino un chilo di riso e poi me lo mangio per i prossimi tre giorni perché sono oberata di lavoro e non ho molto tempo per cucinare, ecco che questo causa a lungo andare un eccesso di istamina, così come gli eccitanti, caffè, tè, anche quello verde, cibi in scatola, antibiotici, alcol e diversi altri fattori come anche la mancanza di nonno. Di conseguenza ne consegue che per prevenire l'eccesso di istamina servirà una dieta variata, molto sonno, una buona gestione dello stress, non medicinali o antibiotici se non nei casi strettamente necessari e in generale avere cura del fegato e dell'intestino. Se vuoi approfondire ti lascio qui sotto il link alla mia diretta di Instagram e ti ricordo che puoi abbonarti, iscriverti al canale con il bottone rosso qui sotto così non ti perdi nemmeno uno dei prossimi video in programma. Io ti ringrazio di essere stata qua e ti do appuntamento al prossimo video, alla prossima pillola di saggezza sulla ciclicità e il tuo ciclo mestruale. Pace, ciao!